buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a parlare degli r w a area world asset per chi mi segue anche su tik tok sa già che ne ho parlato in anteprima credo italiana prima dell'inizio dell'estate poi ho lasciato un po da parte per altri impegni oggi andiamo a vedere un network un layer 1 multi cene dedicato alla gestione di asse digitali cripto e degli asset r w a il design di questo network è completamente open source e permissime sto parlando di rileo network con il token rio potete accedere al sito per andare a leggere le informazioni alla documentazione all'indirizzo rileo punto network in alto a destra abbiamo il prezzo attuale delle toche nel momento della registrazione del video sta a testa 0,11 centesimi di dollari nel protocollo è stata lanciata nel 2020 mentre la main et ha visto la luce quest'anno nel 2023 rio e token utility il token del protocollo ma non è l'unico poi andremo a vedere nel dettaglio quali sono anche le funzionalità come potete vedere del token rst e del token lmx mi raccomando già il mondo delle cripto valute altamente speculativo altamente volatile il settore degli rv a è appena nato quindi ha un grande potenziale ma dietro un grande potenziale si nasconde anche un grande rischio quindi fate sempre le vostre valutazioni prima di acquistare un token piuttosto che un altro non basatevi solo a un video che vedete su internet o a una lettura che potete trovare su un social o su un forum mi raccomando confrontate le informazioni e poi prendete le decisioni se secondo il vostro profilo di rischio il token rio caldo con utility e il token anche dire dei blocker words per i validatori avrà una distribuzione che arriverà 75 milioni di token come potete vedere anche dal rio circulation supply dove c'è anche il grafico e chi mostra ogni tot anni quanto è stato distribuito già nel 2020 loro focus della digitalizzazione del mondo reale era il real estate quindi la possibilità di tokenizzare in mobili per avere una possibilità di scambio immediato e anche eventualmente una distribuzione di valore in base agli investimenti dietro al real state questo lato magari sembra ancora un progetto futuristico probabilmente lo è ma pian piano si andrà in questo senso lato e anche il real estate anche gli immobili potranno essere tokenizzati avere un accesso e gli utenti potranno avere un accesso senza troppe barriere per l'acquisto la gestione e gli investimenti dietro il real estate in quanto tokenizzare un bene reale come può essere un immobile permette la frammentazione di esso e permette anche eventualmente la frammentazione delle reward dato ad esempio a un affitto di quelli immobile nella nel mondo reale e avere una ricompensa a in base al percentuale di token detenuto per quell'appartamento in base al segmento acquistato da un potenziale utente che diventa investitore dell'immobile questo sistema è neonato praticamente molte delle dap molto degli applicativi che state vedendo devono ancora essere sviluppate completamente avranno anche un early o verse un metaverse dove si può interagire con r e vr dove si possono acquistare affittare dei lotti di terreno e costruire su di esse rio l'abbiamo parlato poco fa è il token nativo del netto copriamo rst che un token equity azionario che permette così di avere delle azioni del network e di sostenere anche ovviamente il network con i fondi che andiamo a dimettere la differenza di rio non si può acquistare sul normale change bisogna cliccare sul portale andare effettuare di che essi partecipare all'acquisto del token con le seguenti cripto valuta e una volta che il che si viene approvato possedere questo token azionario ibrido da diritto di proprietà e partecipazione agli utili di rilio hanno annunciato che poi permetteranno il trading su lmx sempre un loro prodotto lmx è liquid mining found registrato anche presso sec ma la funzione principale come abbiamo detto che i titolari di rst parteciperanno ai rendimenti azionari generato da rilio technology l e td e della sua rete attraverso la tokenizzazione e le commissioni di gestione patrimoniale ad esempio crown founding servizi degli agenti di trasferimento interessi che possono essere guadagnati dall'attività core laterale e inoltre avranno un accesso anticipato a rilio verse che verrà lanciato quest'anno per quanto riguarda gli lmx token lmx rilio ha creato un ecosistema di asia digitale a livello istituzionale e ha lanciato il liquid mining found attraverso una partnership di valentius digital questo fondo va a generare dei rendimenti un flusso di entrate derivanti da bitcoin che sono estratti quindi si occupa per l'appunto di mining investendo in strutture investendo in miner che producono btc a minor costo di gestione possibile diciamo che in soldoni la la visione di questo progetto di questo fondo è quella di creare dei token di vestimento che sono negoziabili che genera un rendimento attraverso parla punto il mining di bitcoin raffreddato a liquido di leo network si può aggiungere al nostro wallet come meta masco o kepler ma lanceranno alla fine di quest'anno i primi del 2024 anche un loro wallet non custodia wallet che sarà multi cena avrà un bridge integrato e avrà accesso alla defa e agli asset tokenizzati anche su alte block chain come possiamo vedere anche dalla road map che trovata all'interno del sito come sempre vi invito a leggere tutte le informazioni necessarie che trovate nei siti della pazzamenza seguire i loro profili social telegram twitter e disco per rimanere informati come abbiamo visto interessante anche la spinta di questi due nuovi token un token azionario ibrido e anche il fondo di investimento per quanto riguarda il mining dal lato che siamo abituati ad osservare il token rio quello più abbordabile token utility token governance date in mano agli utenti il sistema un proof of stake quindi verrà messo anche in gioco per avere dei redimenti servirà per il pagamento delle fi all'inter del network e come ricompensa per il sostegno della rete quindi se poi tutto questo ambaradan dovresse andare in porto e funzionare come si deve non dimentichiamoci anche che permetterà in futuro anche la tokenizzazione di altri asset da parte di sviluppatori che andranno a solvenzionare la rete comunque come dicevo se tutto questo ecosistema dovesse andare in porto ovviamente sia il token rio che eventualmente anche token rst potrebbero approcciarsi nel tempo ripeto se tutto dovesse andare per il verso giusto quindi non possiamo saperlo è un settore pionieristico e bisogna prendere per quello che è